scartà la carta scartà la carta miliacidini leva dei galli mi dici mi hanno regalato un prodotto e mi hanno detto miliacidini ci vuoi recensire questo prodotto io pensavo era della moglie quando mi è arrivato con la scatoletta con la sua scatola e invece no è un prodotto di questi qua che mi hanno mandato per recensirlo e è una specie di carta vetrata per i galli andiamo a vedere come è fatto eccolo qua allora andiamo a fare l'unboxing insieme milici e allora cari milici andiamo a vedere il contenuto della confezione allora qui dentro ci sta uno di quei pennellini pulisci ingranaggi poi c'è sta una borsettina per il trasporto poi c'è sta un rullo di scorta poi ci sta questo che vediamo se già comprensivo di pile no non ci sono le pile andiamo a vedere come si mettono le pile il trasporto e poi qui c'è un pulsantino a per cambiare per cambiare per cambiare rullo quando si è consumato credo ok rimetto dentro ok perfetto poi c'è il tasto on off e poi c'è questo open open eccolo qua e qui ci vanno due pile stilo questo così e questo così ecco andiamo a provare qua ecco cari milici lo faccio per voi relax se uno c'è i galli lentamente li sfoglia vedete qui si sta creando i piccoli frammenti di pelle relativa una polverina di pelle molto delicatamente lo sfoglia c'è la sua frizione perché lo fa delicatamente in maniera tale che scegliete voi il grado o le pile non erano nuovissime però penso che non sia una questione delle pile il fatto che è così soft in maniera tale che sia una cosa graduale che viene omogenea ah mi fa quasi il solletico ah che bello raga ah mi fa il solletico te metti qua te rilassi proprio le pile vi ripeto non erano nuove non so se c'ho pile nuove ma provo a vedere ecco mi dici facciamo la prova qua sul tallone aziono e poi via uh che bello vedete questa era la prova di prima adesso sto continuando e man mano toglie l'alto polverizza praticamente e anche al soletico fa ah che spettacolo così con un movimento dolcemente avanti e dietro praticamente polverizza ora io non ho tanti galli qua sul tallone ma nel caso uno abbia i galli penso che ha un'azione di riduzione del callo graduale c'è una sua frizione che premendo si ferma vedete? premendo si ferma vedete? penso che con un determinato movimento si evita di fare la buca da una parte ma avviene una riduzione del callo butta molto emogenea la pelle uh madonna ragazzi com'è liscia erano anni da quando avevo 4 anni che dovevo sentire la pelle del callo che bello miscallus morbido tutto da carezzare ragazzi questa sicca è Italia ragazzi che callo ragazzi ma voi non potete immaginare com'è la pelle del piede ora sono anni e anni che voi ci avete ci avete degli strati duri sul piede invece no e invece no l'uomo ha diritto di essere di avere il callo morbido ragazzi adesso si che mi piace io non lo smetto più ragazzi mi faccio tutti i piedi guardate guardate che morbido ahhh che meraviglia che meraviglia come è venuto ragazzi vieni Daniele vieni a sentire dai Daniele vieni a carezzare il callo dai e dai vieni a carezzare il callo ti ho detto e vieni 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 metti su qui davanti vieni qua mettetela no no tu a carezza sto callo poi mi direi a carezza a carezza ma come era prima come era dall'altra parte però ho sentito a quest'altro lato un pochino più si si ho capito qui è più morbido è vero è vero vieni com'è morbido è vero madonna tocca usarlo sta a fare pollice ah vedi anche il rutto il pollice è duretto qui era duretto addirittura io col taglia unghia mi ero mangiato un pezzo di pelle perché dico madonna il duro mi dà fastidio invece la prossima volta lo faccio con questo è più dolce il taglia unghia e rischia di fattenare se no vedete ragazzi infatti si senta al tatto i segni del taglia unghia perché avevo rimosso un po' di pelle con il taglia unghia invece questo è molto più omogeneo eh che cavolo bello ragazzi grazie del regalo vi metterò il link in descrizione vedete vedete la roba che ha tolto che bello che relax ragazzi io mi sfoglio tutto adesso tutto il corpo voglio fare tutte le cose dure tutte le cose dure va bene mitici mettete i pollici in su guardate che spettacolo madonna ragazzi vedete pure l'apertura chiusura che mer chiaramente è per i piedi non è per le mani però magari uno ci avesse un call anche da qualche parte sulle mani lo puoi desfogliare anche qua gagliardo gagliardissimo chiaramente per i piedi ciao mitici l'apertura